Scusate ragazzi, la mia segnalazione è fatta sul gabinetto, ma questa è una segnalazione che fa veramente cagare. In questo tema parliamo del sindaco Paolo Luzzi di Montechiaro d'Asti, dove non solo sta facendo morire un paese con un asilo abbandonato, con cancello aperto dove tutti possono entrare, quindi sicurezza zero, strade pericolose, strutture del comune lasciate al suo destino, con addirittura impianti di riscaldamento provvisori sopra i tetti, bagni spondati, senza poi parlare delle dichiarazioni shock dell'ex rettore Paglio di Montechiaro Fabrizio Corraris, dove per antipatia il sindaco ha deciso di non dare la municipalità per partecipare al Paglio. Le forze dell'ordine che davanti a questi atti mandalici non si sa cosa stanno facendo, forse erano al bar a prendere il cappè, ma che nonostante le telecamere presenti non sono stati presi chi ha creato questo danno irreversibile, perché è devastante. Nel video vedremo anche un camioncino scaricare in una zona dove lo scarico è stato sospeso dal comune, ma che la barra viene lasciata completamente aperta e quindi permettendo alle persone di transitare tranquillamente e scaricare nonostante il divieto. Non perdere il video in uscita sui nostri canali social. Sto arrivando, sindaco mi aspetti e soprattutto faccia il suo perché i cittadini di Montechiaro non meritano questo.